Sì, abbiamo deciso di valorizzare il dono fatto dalla dottoressa Bracco che è stata premiata quest'oggi e lo faremo continuando la collaborazione con la Fondazione Bracco per un bando che darà l'avvio alla Scuola Vela Beatrice. Cos'è la Scuola Vela Beatrice? È il modo di avvicinare una scuola che avvicinerà giovani imperiesi al mondo della vela ma non solo a quello sportivo, proprio a tutta quella che è la cultura marinara, la tradizione della nostra città oltre che a tutto quello che uno sport comporta e quelli che sono i valori della fondazione che ben si sposano con quelli di questa amministrazione per cui la cultura, la scienza, il senso di comunità, avvicinare i giovani a quella che è la realtà cittadina e poi anche perché no, un occhio all'empowerment femminile quindi avvicinando anche le ragazze al mondo della vela. Lo faremo con loro e non possiamo che esserne grati e onorati.